Tutti permettono di voler vincere al primo turno, ma qualche indicazione per le possibili alleanze nel ballottaggio emerge nel secondo confronto su Rete 8 tra i candidati sindaci di Pescara. Il primo a rispondere alla domanda di Giampaolo Coppola del centro sulle possibili alleanze al secondo turno è Stefano Civitarese. Siamo, voglio dire, una coalizione rosso-verde, credo che sia abbastanza evidente con chi non andiamo al ballottaggio. Nessuna alleanza, nessuna contaminazione per Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle. Non abbiamo apparentamenti da fare, non abbiamo, come dire, volontà di dare restituzioni elettorali a qualcun altro dopo. Le maggiori aperture da Marinella Sclocco del centro-sinistra. Teodoro Civitarese e Costantini? Beh, certamente... Due ex assessori e un rappresentante della coalizione in regione. Presidente con il centro-sinistra in regione, io ero una sua candidata. Ma Costantini frena puntando ad eventuali alleanze soltanto di scopo. Sette che hanno dichiarato il proprio consenso al progetto della Grande Pescara, tranne uno. Io con quelli che hanno dichiarato il consenso rispetto al progetto della Grande Pescara sono aperto al dialogo. Molto fiducioso sull'accesso al ballottaggio è Gianni Teodoro. Io sarò al ballottaggio, io non chiamerò nessuno. Chi verrà dovrà chiedere di entrare a far parte della coalizione discutendo di progetti e di argomenti validi. Carlo Masci è convinto di vincere al primo turno. Utilizzerò concretamente le competenze degli altri candidati a sindaco che alcuni di loro sicuramente siederanno con meno posizione in consiglio comunale. Però vorrò utilizzare le loro competenze, per esempio quella di Carlo Costantini nel momento in cui si tratterà della Grande Pescara. Opzione alleanze scartata da Mirko Iacomelli di Casa Pound. Noi siamo diversi da tutti gli altri, se abbiamo fatto la scelta che non andiamo in coalizione è per il semplice fatto che noi siamo completamente diversi e comunque non accettiamo determinate logiche. Esclude apparentemente anche il candidato sovranista Gianluca Baldini. Ma se lei da cittadino dovesse poi decidere se andare a votare o meno nel ballottaggio? Io se non mi fossi candidato non sarei andato neanche a votare.